buongiorno a tutti allora ho visto il gran premio diciamo che è stato tranquillo fino intorno al quarantesimo giro però ci sono state già delle piccole sorprese all'inizio ma non diciamo niente vediamo alla partenza che è stata bellissima quella di raikkonen che si infila tra le due mercedes e prende la seconda posizione ma poi botta scatenato dopo una pessima partenza a sua volta si prende il secondo posto mentre bestaffen passa il ferrarista quindi al primo giro abbiamo emilton al primo posto al secondo bottas al terzo bestaffen al quarto raikkonen al quinto ricciardo al sesto grosjan al settimo magnusen all'ottavo vettel anche lui partito malissimo nono ulkeber e decimo o con vettel appunto dopo una pessima partenza si riprende la sesta posizione superando sia magnusen che grosjan mentre van doorn è già doppiato perché ahimè è uscito di pista è dovuto andare a fare un pit stop e quindi essendo un gran premio che dura ogni giro un minuto e dieci secondi più o meno poi riusciranno anche a scendere sotto l'uno e dieci se esci un attimo ciao la gara per ora è tranquilla con questa classifica primo emilton secondo bottas a due secondi terzo bestaffen a cinque secondi quarto raikkonen a sette ottavo quinto ricciardo scusate a otto sesto vettel a dieci settimo grosjan a tredici secondi dal naturalmente da emilton ottavo magnusen a sedici secondi nono ulkeber a diciotto e decimo con a diciannove quindi sono tutti abbastanza vicini ma rispetto ad emilton siamo già tra il decimo e emilton ci sono diciannove secondi siamo a inizio gara a dodicesimo giro primi problemi perché la reno di ulkeber va a fuoco però riesce a portare la macchina una via di fuga rottura chiaramente netta del motore reno perché praticamente ha fatto una fumata che metà bastava e poi ha preso anche fuoco erano anche abbastanza preoccupati i cronisti che gli ha detto esci velocemente dalla macchina che non si sa mai intanto leclerc da ultimo è già riuscita ad arrivare in quindicesima posizione dopo aver superato alonso hartley ed ericsson al quattordicesimo giro primo colpo di scena la mercese di batteri bottas è costretta al ritiro probabile il problema al motore per il pilota che parcheggia in zona non pericolosa però non è il cambio ha detto che probabilmente è sempre la questione di idraulica eccetera che ha avuto anche l'altra macchina mercedes non la loro l'altra che è la macchina cliente ecco per intenderci quindi problemino subito per batteri bottas che si deve ritirare weirdo safety car e p stop per le entrambe le red bull e le ferrari cosa che però la mercedes non fa lasciando in pista amilton quindi tutte con gomma rossa sia le mercedes che scusate sia le ferrari che le red bull mentre amilton resta in pista e ahimè poi si renderà conto dell'errore fatto perché loro giustamente vanno fino in fondo con gomma gialla in più il regime di safety car perdono non di 20 secondi ma molto meno rispetto a se avessero fatto un p stop normale al ventesimo giro c'è un errorino di rai conere rai ricciardo ne approfitta per rubarmi la terza posizione ma per ora il gran premio è tranquillo con emito bello tranquillo che sta andando come un matto per cercare di portarsi a 20 secondi sulla sul secco sugli inseguitori e come minimo quindi vestate invece al ventiduesimo giro emito nessi primo madre staff e da 13 secondi e 2 ricciardo a 16 secondi e 3 rai con ed a 17 7 e vettel a 22 secondi quindi se dovesse fare il p stop riuscirebbe a malapena stare davanti a vettel visto che ci vogliono comunque 20 secondi più quello che ci vuole quindi sarebbe già al limite per stare davanti a vettel magliusten è già sesto a 33 seco a 30 secondi per esso settimo a 33 secondi e mezzo gross gian e ottavo a 35 secondi e mezzo nono con 41 secondi e decimo science a 42 secondi e 1 e siamo solo al ventiduesimo giro come vi dicevo errores mercedes che non si sono fermati ai boss in regime di safety car e quindi c'è una continua chiamata dell'ingegnere ad emito che gli dice scusami ho sbagliato avrei dovuto farti fermare adesso cerca di tirare più che puoi e lui che abbastanza incazzato perché giustamente dice ho le gomme al limite cosa vuoi che che vado al massimo infatti al venticinquesimo giro hamilton si ferma per il cambio gomme rientra in quarta posizione dietro a destaten richard e rancone davanti però a vettel ma con gomme più fresche di 9 giri naturalmente gialle ventottesimo giro bella lotta tra strolle e reclare con il monegasco che riesce a superare il pilota della williams se non è il rostrole della william non ho controllato ma se non è il rostrole della william al 33esimo giro bestafene in fuga bello tranquillo al secondo posto c'è richardo al terzo raicone nel quarto ed bilton vicini l'uno all'altro a circa un secondo un secondo e due un uno dall'altro al quinto vetter che è un attimino più indietro ma non troppo a due secondi tre secondi di distanza al sesto c'è grosgeno ormai abbastanza distanziato settimo con ottavo magnus e nono sainz e decimo perez trentacisquesimo giro problemi per la posteriore sinistra di ricciardo problemi del blistering quindi consigliano a raccone di spingere per metterlo in difficoltà giustamente il blistering praticamente spiegava il commentatore è un una temperatura troppo alta della gomma all'interno che crea delle bolle che si vedono poi anche all'esterno e quindi è un rischio guidare troppo con il blistering sulla gomma perché può esplodere trentasencesimo giro pistop disastroso della renorm perdono un'eternità a sostituire l'anteriore destra della di sainz che è rientrato nono e rientra praticamente all'ultimo posto trentattesimo giro la situazione sempre con vettel al primo posto con cinque sei sette secondi di vantaggio sugli altri al secondo posto c'è ricciardo al terzo raicone dal quarto emington e acquittuettel tutti molto molto vicini poi vabbè dietro ci sono quelli che combattono per le posizioni di rincalzo cioè rincalzo sesto grosjean settimo con ottavo magnus nono perez e diecimo erison con la sauber alfa romeo raicone supera ricciardo e si prende la seconda posizione e ricciardo va subito ai boss e mette gomma super soft nello stesso tempo vettel passa anche emilton quindi doppio sorpasso ferrari al quarantesimo giro quindi abbiamo verstafen al primo posto raicone dal secondo a sette secondi secondo a sette secondi terzo vettel a nove secondi e mezzo da verstafen quarto emington a 10 secondi e 9 quindi il quinto ricciardo che si è fermato i boss a 30 secondi e 5 sesto grosjean che nonostante non abbia fatto il pistocco come ricciardo eccetera addirittura a 42 secondi settimo con a 53 secondi ottavo magnus e da 54 nono perez già un minuto e decimo erison a un minuto e 0 3 secondi al 46esimo giro la classifica sembra bloccata ma il problema di brissi per alcune moto si fa notare vedi il pistocco della rebus di ricciardo fatti anche al 53esimo giro emita non rischia si ferma i boss e mette gomma rossa super soft rischiando di perdere una posizione finendo quinto dietro a ricciardo e infatti rientra proprio dietro a ricciardo entrambi con gomma rossa ma non faccio in tempo a scriverlo si ferma anche la red bull di ricciardo che a questo punto è a rischio penalità perché le più sono finite le power unit e quindi se non riescono a recuperare questo motore dal prossimo giro ci sono dieci posizioni di penalità e cominciano a esserci i primi problemi siamo solo a luglio a luglio il campionato finisce a novembre vediamo la classifica al 56esimo giro che vede sempre westafen al primo posto raicone che ha ricoperato due secondini a 5 vette le terze a 7 secondi e 2 quarto emilton a 29 secondi che appunto si è fermato quinto grosgiana addirittura a 59 secondi sesto maglius è già un giro settimo con sempre a un giro ottavo perez sempre a un giro nono gasli e decimo leclerc che torna in zona punti al 63esimo giro mentre le due ferrare su una caccia di westafen raicone alla 3 secondi e 8 vette la 5 secondi e 3 alonso supera leclerc per la decima posizione l'aveva detto alonso fatemi arrivare fino in fondo che qualcosa combinerà però permettetemi di portare la macchina alla bandiera a scacchi e poi succede l'incredibile al 64esimo giro anche la mercedes di emilton si accosta ai margini della pista disastro veramente per le frecce d'argento con entrambe le vetture out ed è una cosa che non capitava che due mercedes si fermassero in un gran premio di formula 1 addirittura dal 1955 quindi settimana nera per la germania che dopo aver visto la loro nazionale di calcio uscire 2 a 0 contro la corea vede anche la una delle auto più prestigiose insieme alla naturalmente alla bmw ma mercedes è un attimino meglio sono due ottime auto però mercedes fuori da un gran premio di formula 1 al 66esimo giro abbiamo un alonso scatenato che supera anche gas lì e si prende l'ottava posizione come dicevo prima l'aveva detto all'inizio perché all'inizio era in delle posizioni del sottofondo per intenderci ha detto questa volta riesco a portare la macchina in fondo e l'ha portata in fondo e l'ha portata a casa un'ottava posizione a cinque giri dalla fine quindi abbiamo Verstappen primo Raikkonen a 2 secondi e 7 Vettel a 4 secondi e 1 e poi dopo tutti i doppiati Grosjean a 4 a 1 giro Magnussen a 4 secondi e 3 da da Grosjean Perez a 1 secondo e 7 da Magnussen Ocon a 5 secondi e 3 da Perez Alonso ottavo ormai tranquillo a 18 secondi cioè Ocon non lo può più prendere e abbastanza di stacco con Leclerc nono a 1 secondo e 6 e Harrison suo compagno di squadra che lo tallona a mezzo secondo e con Leclerc con un problemino di blistering a sua volta che infatti gli costa la posizione perché il suo compagno non ha pietà lo sorpassa comunque le due Sauber al nono e decimo posto quindi classifica finale Verstappen primo Raikkonen secondo Vettel terzo Grosjean quarto Magnussen quinto Perez sesto Ocon settimo Alonso ottavo Ericsson appunto nono e Leclerc decimo dopo questa classifica Vettel risorpassa di un punto Hamilton quindi ha un punto di vantaggio su Hamilton e settimana prossima si va in Inghilterra in casa del cavaliere nero e vediamo se le due Mercedes si rifaranno avrà una voglia di rivalsa che metà basta però sto motore nuovo della Mercedes comincia leggermente a preoccupare bene abbiamo detto tutto vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao a una magliettina spero che si veda stavolta sportando ed intorni la nostra pagina Facebook ciao